Ciao Spragiosi, io sono M e oggi sono qui per farvi una recensione di un film che ho visto al cinema. Il film in questione di oggi è Into Darkness. Into Darkness, un film che viene anticipato da due semplici parole, star e track. Cosa ci stanno a dire non l'ho ancora capito, però diciamo che il film è tutto sommato un film bello, guardabile, soprattutto se si accetta il fatto che sia un film la cui trama è composta praticamente in questo modo. Scena di azione, dialogo inutile, scena di azione, dialogo inutile, scena di azione, dialogo inutile, scena di azione, dialogo inutile. Purtroppo questo film Into Darkness è veramente banale come trama, ha dei cattivi da... non saprei neanche tutti i carli questi cattivi, sono assolutamente... passano inosservati. Cioè è un super cattivo sprecato. Non esce dal video se non fosse per il fatto che è anche un film in 3D. Io lo sono andato a vedere in 2D perché, come sapete, il 3D non mi aggrada. L'altro super cattivo, non ve lo vorrei svelare, però mi viene da dire, è insito nella flotta stellare ed è un super cattivo da... da telefilm anni 70, è un super cattivo assurdo, non ha senso, non si capisce bene perché diventa super cattivo. Diciamo tutto sommato, alla fine, se vi piace un film d'azione, se vi piace divertimento, insomma così, passare qualche ora in tranquillità guardando un film, di sicuro Into Darkness vi può piacere. veniamo al fatto che Into Darkness è anticipato da quelle due lettere che sono Star e Trek. È dura. È dura. Io sono un fan di Star Trek da 20 anni e una roba del genere non l'avevo mai vista, neanche fatta dalla banda Bassotti come la chiamo io, cioè Braga e quell'altro, adesso mi sfugge il nome, mi va sempre bene anche lui. JJ Abrams in questa cosa qui è riuscito a prendere tutto quello che c'era di Star Trek, buttarlo dalla finestra. Non ha niente a che fare con l'universo di Star Trek. Una trama che non ha profondità, non ha spessore, non parla dei problemi che Star Trek ha sempre trattato, cioè Star Trek era bello soprattutto... parlava di argomenti di un certo tipo, argomenti profondi, cioè l'accettazione razziale, il volersi bene tra le persone, cercare sempre in tutte le condizioni di trovarsi e mettersi d'accordo. C'erano dei lati oscuri anche in Star Trek, però erano lati oscuri che venivano affrontati nel tentativo di essere risolti. Da fan di Star Trek questo non è un film di Star Trek. Questo è un film che porta il nome di Star Trek. Non voglio dare oltre come fan di Star Trek perché veramente mi ha dato fastidio e già dopo cinque minuti volevo prendermi e alzare. Quando c'è stata un'immagine di un'Enterprise, l'ha appoggiata. Sì, insomma, quando vedete il film poi lo capite. Io vorrei ricordare il film per un'unica cosa, ed è praticamente questa, guardate. Sì, l'unica cosa meritevole del film. E ora vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata, ma prima, cari spregiosi, mettete un mi piace e aspettate con calma il prossimo videoblog. Dal vostro M è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!